Adotto Narnia il nuovo progetto promosso dalla cooperativa sociale ortovolante impegnata in attività di agricoltura sociale per favorire l'inclusione lavorativa di persone con disagi diversi. L'iniziativa lanciata in questi giorni chiama in causa quanti vogliono contribuire a salvaguardare la vita delle api, il pianeta e la biodiversità, un modo per avvicinarsi alla natura per prendersene cura, per conoscere più da vicino l'importante attività svolta dai laboriosi insetti impollinatori presenti nel territorio di Orsarea di Puglia, Poggio Imperiale e San Marco la Catola. Adotto Narnia è un'iniziativa che abbiamo lanciato con la cooperativa ortovolante che permette alle persone di adottare un'arnia, delle arnie che abbiamo nei nostri apiari. Le arnie impollinano l'80% delle specie vegetali che noi mangiamo come frutta e ortaggi e non riusciamo a immaginare un mondo senza di loro. Quest'iniziativa permette a chi appunto adotta le nostre arnie innanzitutto una fornitura di miele annuale e una visita in apiario nelle visite che facciamo per un controllo eventualmente quando andiamo a raccogliere il miele è un'escursione nei posti naturali in cui abbiamo le nostre casette. Il miele volio innanzitutto è un percorso che facciamo con i ragazzi e gli utenti della cooperativa ortovolante, quindi dalla cura delle api fino a poi la smielatura e la raccolta del miele e l'invasettamento, quindi riescono a seguire su tutto a 360 gradi il processo che ci permette di realizzare questo miele volio. Il nostro obiettivo è l'inserimento lavorativo di persone con svantaggio.